EA Sports. It's in the game. Ecco il tiro. Grande intervento del portiere. Brillante. Che gol! Splendida rete. Splendida rete. Ecco il replay dell'azione che li ha portati al gol. Grande fiuto del gol per l'attaccante che è stato bravo ad avventarsi per primo sul pallone, respinto dal portiere e a farlo secco. La regia si ripropone il gol da un'altra angolazione. Cross pericolo. Una parata incredibile. Salando due minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Ha un'autostrada a disposizione. Pericolo. Ecco il tiro. Palla che supera di pochi centimetri da traversa. Ha fatto tutto bene. Ripartenza veloce. Se lo lascia sfuggire. Attenzione al tiro. Pallone che trova il palo. Palla ancora buona. Si riprenderà con un palo laterale. Pallone che trova il palo.